Cos'è un robot? Un robot è stato definito inizialmente come un manipolatore programmabile capace di svolgere autonomamente in maniera teleoperata alcune operazioni. Ecco questa è la definizione più semplice che però è stata coniata all'inizio della storia della robotica poi sono intervenute molte altre accezioni più legate all'intelligenza artificiale però alla fine i robot sono nati anche storicamente per fare tutta quella serie di azioni che in qualche modo erano o pericolose per l'essere umano oppure tediose quindi ad esempio la rimozione di scorie radiattive oppure la manipolazione all'interno di navicelle spaziali o nello spazio in generale. Grazie